benvenuto a aggettivi welcome to personal adjectives in this lesson we will learn about using adjectives to describe how we feel and our personality amichevole ostile simpatico sgradevole affidabile timido sicuro tranquillo estroverso socievole divertente use the adjectives with the verb to be io sono affidabile tu sei amichevole lei è ostile in this lesson we have learned about adjectives to describe people and their personality repeat after me lui è estroverso lei è socievole